Eh! Ehi, no! Ma che è in ordine! Eh che mi emozioni! No, tu! Ah, io! Ciao, parto di qui! Ciao! Che sei simbata! Ma sto finito! Volevo che andava un altro prezzo? No, 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 per carità, c'è abbastanza un riso! Tu tu? Ah sì, sono giuri alla fine. Che abbiamo concluso così. vi lasciamo sempre con queste notte un po' ostaciche vi ricordo noi che siamo qua che stiamo disponibili siamo disponibili madrimoni, battesi battesi, forse un po' troppo così i bambini si abitano da piccoli addio il celebrato addio il celebrato il celebrato il divorzio il divorzio ognuno si sta sconfondendo anche fuori noi siamo tutti in euro e quindi diamo pezzi a tema per tutte le occasioni non vi preoccupate poi i nostri contatti facebook sono Gianni Cavalieri e Roberto Pandora grande evolution aggiunite Gianni per ricercare che è troppo lungo troverete il tuo foto della serata su youtube vi ricercate sempre gli stessi uomini Roberto Pandora Draghi e Gianni Cavalieri troverete i video della serata e anche le altre serate che abbiamo fatto se volete volerli le foto che ci avete fatto potete accarciare questo film che dire di più grazie per essere venuti tornate numerosi lascia la parola taglia che saranno uniti tu e poi ci salutiamo per trinzione volevo dire ci fa piacere dietro i vostri amici che siete stati qua sei ben piaciuto sei ben piaciuto dietro lo sei se i vostri annunci perché non è giusto che la fregatura la prendiate solo voi va bene? ma allora grazie grazie di essere rimasti grazie di essere grazie di esistere ci vediamo di dormire la prossima con il nuovo spettacolo un grosso applauso a Roberto Pandora è un applauso ancora più grande più vigoroso più grosso a Gianni Cavalieri un applauso bene nel salutare la prossima settimana con la nostra sigla pieni di sonno già mezzi addormentati ma troppo innamorati per dirci buonanotte e andare via a rivederci a domani chissà a rivederci a rivederci il che vuol dire tornate a vederci a rivederci buonanotte